Chi è che garantisce che una persona che ha letto un libro, ha visto una mostra, ha ascoltato un concerto, sia diventata diversa da come era prima? E se è diventata diversa, è necessariamente diventata migliore? Questa è una domanda a cui io, che mi sono più volte posto e che pongo a voi naturalmente, che ciascuno pone a se stesso, se è appassionato di arti, letteratura, musica, scienza e tutto quanto va a formare quella cosiddetta cultura. Nel mio caso più drammaticamente, ma anche più leggermente, ironicamente, perché se si dovesse dare una risposta netta a questa domanda io dovrei smettere di fare quello che faccio, cioè da una parte scrivere, perché quando entro in una libreria e vedo i milioni di libri bellissimi già scritti e pubblicati, dico ma io perché ne dovrei fare un altro, visto che io non riuscirò mai neanche lontanamente a leggere tutti quelli belli già scritti, quindi potremmo anche fermarci qui, gli architetti potrebbero fermarsi qua nel costruire, perché tanto di bellezze ce ne sono in questo paese quante ne vogliamo e insomma soprattutto poi questo è un problema che è un problema, è una ricchezza che intasa l'Italia al punto che il nuovo scrittore, architetto, musicista dice ma forse qui abbiamo già dato il meglio di noi, basta guardarsi intorno, oggi soltanto in questa mattinata di passeggiata per Pistoia ho avuto questa conferma in quest'ultimo anno ho viaggiato moltissimo in Italia e questa conferma è quasi dolorosa, sì in effetti è il paese più bello del mondo, veramente c'è poco da fare, mi dispiace dirlo, vorrei che ci fosse qualcosa di meglio, qualche posto ancora da riempire, qualcosa di nuovo da fare, mi è venuta quella che è un bellissimo disegno dell'artista Fussli dove si vede lui disperato con il pugno puntato sul mento e dietro di lui il piede di marmo di una statua romana, cioè di quello che è rimasto di un colosso che doveva essere alto 10 metri e questo disegno si intitola angoscia dell'artista contemporaneo nei confronti della grandezza del passato, cioè il povero Fussli arriva a Roma e dice qui qualcosa di così colossale, magnifico io non sarò mai in grado di farlo, quindi questa domanda così mi attraversa come scrittore ma mi attraversa ancora più fortemente perché il problema non è essere uno scrittore personale, invece nel lavoro che faccio con altri che è il lavoro di insegnante nel carcere di Re Bibbia, insegnante di lettere in un istituto tecnico e quindi con un ruolo che è proprio quello del professore, insomma anche qui devo dire non vorrei essere antipatico però siccome tutte le volte che dico che insegno in carcere ci sono delle facce di persone che ah che bello, oh com'è bravo lei che ero e poi deve essere un'esperienza molto intensa e dico sì lo è ma non è né diverso, anzi per certi versi oggi come oggi penso sia quasi meglio. Grazie e mi sembra di capire che tra voi ci sia qualcuno che sa ciò di cui parlo cioè l'insegnamento in una scuola normale, nel mondo normale. Però c'è questa cosa che insomma andare in questi posti comunque dove effettivamente le esperienze sono estreme, le persone a cui tu insegni sono particolari e così via, ti fa chiedere più volte al giorno e più volte in un anno e più volte nel corso di una carriera, io posso chiamarla così visto che lavoro lì dal 94, cioè una carriera sempre ferma, cioè un'anticarriera, quella dell'insegnante peraltro comincia e finisce esattamente sempre allo stesso gradino e perché lì ci sarebbe anche un risultato ulteriore a quello meramente scolastico, cioè queste persone l'insegnamento che tu gli hai fatto, gli hai fornito, ecco hanno contribuito in qualche misura a allontanarli dalla ragione per cui sono lì, a non farla ripetere, la cosiddetta recidiva, cioè cosa è accaduto dal momento in cui tu sei entrato in classe al momento in cui ne sei uscito, sto dicendo giorno per giorno, non alla fine dell'anno, ecco anche questa cosa per esempio come cosa che mi sembra che sarebbe giusto applicare anche nella scuola all'esterno, in tutte le scuole, in tutti gli ordini delle scuole che tendono, io ho visto sempre a mirare molto lontano, cioè si mira alla licenza elementare, alla licenza media, al diploma, cioè c'è una specie di traguardo molto lontano e nel frattempo uno prende tempo quando invece ogni ora, ogni singolo giorno di lezione, di scuola andrebbe sfruttato, andrebbe riscattato, ecco qui la parola riscatto secondo me è adatta, cioè ogni singola ora della vita di un individuo e incredibilmente i ragazzini e le ragazzine sono individui, noi non ci pensiamo abbastanza, quindi quel lungo pezzo, un lungo tratto ormai che dura 13 anni, non so quale sia l'obbligo forse meno, ma comunque diciamo poniamo che uno comincia l'elementare e finisca a 18 anni, a 19 anni, ecco sono 13 anni di vita, che cosa è successo? È successo un insieme di ore, di singole lezioni, di singoli individui, i professori che sono entrati in classe davanti a 15, 20, 30 persone e cosa hanno fatto, cosa è successo? Allora la galera obbliga a questa attenzione alla singola lezione, al singolo giorno, per una ragione in realtà molto semplice e cioè il fatto che tu non hai alcuna certezza che la persona con cui stai parlando e a cui stai insegnando matematica o disegno o estimo o un sonetto di cavalcanti ci sarà il giorno seguente o la settimana seguente o il mese seguente, perché? Perché potrebbe smettere di venire perché si è stufato, quindi fra l'altro i primi mesi di scuola decisivi perché tu devi catturare queste persone, una parte delle quali stanno lì solo per non stare in cella, quindi diciamo passano da una cella a un'altra cella, infatti talvolta mi è venuto da pensare che la scuola in galera è come una specie di carcere al cubo perché già stai recluso e poi ti vai ancora più a recludere in una classe che comunque è una cella dal punto di vista strutturale anch'essa e dalla quale non puoi uscire perché devi stare lì a sorbirti due ore di fisica o di scienze o di italiano. Queste persone vanno catturate perché non si disperdano, cioè non preferiscono incredibilmente starsene in branda piuttosto che venire a sentire te, oppure preferiscono andare all'aria perché per esempio nel nostro caso la mia scuola si svolge di mattina e loro per venire a scuola rinunciano, loro hanno quattro ore d'aria e rinunciano alle due ore d'aria della mattina, quindi insomma prima di farlo occorre essere motivati, allora motivare subito, però malgrado questo sforzo che si possa fare, poi tu sai che per loro fortuna alcuni verranno scarcerati, per loro sfortuna alcuni si ammaleranno e forse moriranno perché già malati, altri ancora verranno trasferiti, altri ancora andranno a questi processi che sapete bene in Italia possono durare all'infinito. quindi la scuola nel carcere come scuola sperimentale, quello che funziona o che si prova a far funzionare lì, un po' come quei materiali che vengono messi alla prova nelle astronavi per vedere se reggono a temperature, a sollecitazioni forti, allora probabilmente funzionerebbero ovunque. Io ho avuto, devo dire, una notevole conferma su una cosa e che in effetti, che anche questa posta la letteratura italiana, è leggibile, punto interrogativo, così alta, difficile, crudele, esagerata come essa è, perché Dante, Machiavelli, Leopardi sono autori estremi, cioè quasi insostenibili nella loro purezza, nella loro radicalità, sono autori che stanno sempre sul punto di far esplodere tutto, anche tutti i valori, tutte le cose in cui uno crede, per esempio non c'è niente da fare che il radicale materialismo leopardiano, vallo a far passare a un ragazzino di 16 anni, già è complicato, a un uomo di 40 o di 50 che magari si attacca ancora alla fede, alla famiglia, qualche valore e arriva Leopardi e gli stronca pure quello. Infatti alcuni miei studenti proprio onestamente hanno detto guarda io preferisco la menzogna, cioè preferisco l'illusione, preferisco ingannarmi, forse c'ha ragione lui, però io invece devo attaccare, pigliarmi a qualcosa. Quindi questa domanda sulla letteratura italiana ha avuto però una risposta, negli anni anni posso dire che la letteratura italiana è grande ed è leggibile e si può leggere ovunque e quindi per esempio Dante è difficile, sì vabbè d'accordo è difficile, però se ti metti lì è talmente bello, è talmente potente, è pieno di cose per cui se non acchiappi l'intero acchiapperai, porterai sempre a casa qualcosa, è un po' come Shakespeare, io ho visto tantissimi orrendi spettacoli fatti da Shakespeare e però uscendo mi accorgevo che mi ero portato a casa delle scene, magari gli attori erano cani, non importa, magari lo scenografo aveva fatto dei pasticci con la foresta di Macbeth, vabbè ma non importa, la grandezza era tale che passava. Allora Dante per esempio, e faccio l'esempio massimo ma anche quello più arduo, passa, passa in galera e se passa in galera deve passare ovunque, può passare, non deve, può passare ovunque. Queste sono le scoperte in positivo, la scoperta in positivo, la scoperta in negativo ma è un negativo che io vorrei cercare di comunicare quanto noi dobbiamo conviverci e addirittura prosperare o vivere negli interstizi di questo negativo è che in effetti la cultura non salva nessuno, questo mi dispiace dirlo a quelli che pensano che un uomo che ha letto un libro sia migliore di uno che non l'ha letto, non è così. Tra i peggiori criminali del secolo scorso ci sono uomini coltissimi, uomini che avevano letto o possedevano intere esterminate biblioteche, la cultura non rende migliori le persone, se c'è un luogo dove io trovo la feccia umana questa è l'università per esempio, quindi allora se gli universitari che dovrebbero essere quelli che ne sanno di più sono talvolta gli uomini più corrotti e immorali del mondo ai loro livelli, poi non possono aprire dei campi di concentramento, però quando hanno potuto farlo lo hanno fatto ed erano universitari, cioè erano uomini colti, non pensiamo all'idea che solo la barbarie si attivi solo con l'ignoranza, è falso, anzi l'ignoranza, io forse sarò un po' tostoiano in questo, l'ignoranza che quasi non esiste più purtroppo protegge per esempio dalla cattiva cultura, dagli equivoci, a me continuamente mi chiedono, perché è una specie di slogan di questi giorni, qual è il libro che ti ha cambiato la vita? Qual è il libro che ti cambia la vita? Guarda che se un libro ti cambia la vita vuol dire che sei un idiota, vuol dire che, oppure che hai letto solo quello, infatti tendo a pensare che il libro che cambia la vita sia il Mein Kampf, cioè quello è un libro che cambia la vita, leggi quello e poi ti radi i capelli e cominci a marciare, perché sono i libri semmai che ti cambiano, cioè tanti libri, oppure molto diversi e poi te la cambiano e te la fanno cambiare in un senso o nell'altro, quindi questa idea della conversione tramite cultura, io ne sono molto molto spaventato, molto perché penso che indichi una povertà e una schematicità, quello che però ho messo alla prova continuamente nel carcere è se la persona a cui tu hai dedicato lavorando un anno, due anni, tre anni, io ho avuto pochi casi di studenti che ho seguito per tutto il quinquennio di questa scuola superiore, cioè che sono arrivati fino alla maturità, in particolare voglio portare l'esempio e salutarlo, barra salutarla, perché non so adesso anagraficamente come cosa risulti, un transessuale che si diplomò qualche anno fa e dandoci questa soddisfazione estetizzante, se vogliamo però bella, che era entrata come Hector, mi sembra, anagraficamente uomo e quindi recluso, reclusa dentro un carcere maschile, sia pure in una sezione particolare, il suo nome diciamo professionale di quando batteva era Candy, bellissima persona anche fisicamente colombiana e invece ha di nuovo cambiato nome, il nuovo nome è stato, alla fine del percorso scolastico, Laura, esattamente come la Laura del Petrarca. Allora l'idea che ci fosse questa trasformazione mi ha molto colpito, poi ho incontrato un giorno Laura, fuori dalla galera, non incontro quasi mai i miei ex studenti, l'ho vista cambiata, anzi molto cambiata, si era fatta questi due enormi seni nuovi e volevo dirle che la Laura del Petrarca forse non era così formosa e non ho avuto neanche il coraggio di chiedere se era tornata a fare quello che faceva prima e soprattutto tornata a fare i reati che sono connessi a quel mondo, cioè i reati di spaccio di stupefacenti. Allora la domanda era questa, cioè avere poi fatto tutto questo percorso, essere diventata Laura, esserti diplomata con una tesina su Garcia Marquez e tutto quanto, poi quanto ti terrà lontano fuori dalla strada? La risposta è non si sa. Allora questa precarietà, questa debolezza, questa incertezza dei risultati, incertezza sui risultati e dei risultati, credo che sia la cosa più preziosa in questo momento su cui l'individuo ma anche la collettività dovrebbe lavorare, cioè lavorare per risultati incerti in un momento diciamo così storico, epocale, insomma in cui sembra invece che il grande problema sia quello proprio di non volere mai accettare i fallimenti, cioè considerare il fallimento come un fallimento e basta, cioè come una cosa di cui avere vergogna e di cui, che annulla anche tutto ciò che è stato tentato di fare, cioè se una cosa fallisce allora vuol dire che assolutamente era sbagliata in partenza. L'unica, diciamo, visto che questo è un festival che ospita sociologi, antropologi, l'unica notazione diciamo di quel tipo sociologico, antropologico sul mondo contemporaneo che mi sento di fare è appunto aver notato questa terribile ansia prestazionale da cui siamo divorati e che fa sì che se poi non viene ottenuta quella pienezza di risultato che veniva prefissa allora è la catastrofe, dai ragazzi agli adulti siamo totalmente prigionieri di questo per cui se un ragazzo prende quattro al compito si butta dalla finestra, se un uomo viene lasciato dalla sua donna la pressione del dover riuscire e la vergogna infinita del proprio fallimento fa sì che l'individuo non lo regga. Oggi mi sembra che se c'è una malattia sociale sia questa dell'incapacità di reggere le pressioni, le pressioni delle proprie mancanze, delle proprie debolezze, delle cose che non sono riuscite. Ora, per fortuna, la scuola in galera è un continuo esercizio di questo per cui un po' ti ci abitua, ti abitua anche a quella che nella gestione delle tossicodipendenze viene chiamata riduzione del danno, cioè una formula secondo me molto sensata che è quella che noi non risolviamo il problema, possiamo minimizzarne i danni, questo già sembra poco e quindi ti accontenti di così, tanto raggiungiamo quel livello, se già siamo riusciti a ridurre il danno allora qualcosa è stato fatto, se pretendiamo appunto l'interezza del risultato andremo incontro allo scacco. Allora, questa è una cosa che viene vissuta nel carcere sia da chi ci lavora sia da chi ci è detenuto dentro, quindi è veramente l'unica cosa umana che si ha sempre e comunque in comune con i detenuti. Cioè siamo qui perché abbiamo fallito fondamentalmente, voi avete fallito, io adesso farò una cosa che probabilmente fallirà, cerchiamo di rendere questo fallimento spettacolare, cerchiamo di renderlo favoloso, cerchiamo di renderlo bello, struggente, interessante, se no uno deve dire, io ho visto l'altra sera a teatro la morte di Danton, allora uno deve dire, Danton guarda che fine ha fatto, tra l'altro quello che lo accusa Robespierre poco dopo, allora se cominciamo questa catena di vedi quello ha fallito, quell'altro pure, allora non ci sarebbero state la riduzione francese, non ci sarebbero tutte queste cose che forse sono abortite, a metà sono rimaste incomplete, sono state realizzate nel modo sbagliato, però non sarebbero state se non ci fosse stato questo coraggio dell'affrontare l'eventualità del fallimento. Questa è l'unica diciamo lezione che, cioè non è l'unica ma è la più importante lezione che si ricava dal lavorare lì dentro. È un lavoro di, e questa io la chiamo cultura, di, uno potrebbe pensare che sia, e alcuni pretendono che sia una distribuzione di valori, cioè ci sono persone che non hanno valori, i detenuti, i devianti, i delinquenti, ci sono persone che invece ce li hanno o li amministrano, gli insegnanti, e glieli portano e glieli consegnano. E in realtà poi uno scopre lì dentro, quindi è un lavoro culturale anche quello distruttivo, anche quello di, appunto, un po' leopardiano, di demistificazione, di sistematica messa in dubbio dei cosiddetti valori, quando si scopre che i detenuti, la maggior parte di loro, di valori ce ne hanno pure troppi. In realtà non è la mancanza di valori averli portati lì dentro, anzi, in molti casi, io ho lavorato per vari anni all'alta sicurezza, con, appunto, i detenuti per associazione mafiosa e camorristica, loro c'hanno una sovrabbondanza di valori. La fedeltà, la famiglia, ucciderei per... Quest'anno c'avevo un detenuto che mi aveva chiesto se gli procuravo, loro si fanno, tirano l'inchiostro per farsi tatuaggi dai pennarelli pantone. Allora gli chiedo però sempre, scusa, io sono contro i tatuaggi in generale, nel mondo, quello carcerario lo capisco, quello ex-carcerario proprio non riesco veramente a capire quando vedo queste schiene con le cose maori, dico, vabbè, vabbè, sei un maori, d'accordo, anche se sei di cesenatico sei un maori. Però, se questo è ridicolo nel mondo, nel mondo libero, io penso che ai marinai, ai detenuti, non so, marinai quelli, diciamo, Sandokan, il tipo di marinai lì questo si ha permesso. Però, quando questo, siccome è vietato portare cose del genere dentro, io chiedo sempre, ma tu cosa che, dimmi bene che tatuaggio ti vuoi fare, perché lo devo, quello lo voglio avere un diritto di censura, sul tatuaggio. E l'ultimo è, mi era chiesto, era per la mia famiglia ucciderei. E ho detto, il pantone non te lo porto, mi spiace, o cambi, metti totti forever, metti quello che ti fai. però, questo, ecco, è un valore, cioè c'è poco da fare, questa frase che il ragazzo si voleva tatuare, è un'idea valoriale forte, troppo forte, immensamente forte. L'idea della famiglia, poi, qui ci sono fior di storici, di cose che l'hanno spiegata e rispiegata, l'idea di famiglia, poi soprattutto in Italia, è un'idea pericolosissima, è un'idea pericolosissima, è un'idea micidiale, perché vuol dire, io, per la mia famiglia, tutto, per le famiglie, però poi posso tranquillamente sterminare le famiglie altrui, figli, madri, fratelli, la faida, in fondo si basa su questo. Allora, fuori dalle battute, per tornare a quel discorso, tu ti devi mettere lì e cominciare, questa opera illuministica, diciamo, vecchio stile, di cominciare a dire, ma siamo proprio sicuri di questa roba, cioè, allora, mettiamo per esempio a confronto teorie diverse, ipotesi diverse, c'è qualcuno che dice questo, qualcuno dice quest'altro, e poi, quindi, cosa appunto che è un'opera molto delicata, perché ripeto, privare qualcuno delle proprie certezze, è molto doloroso, è un processo doloroso, è esattamente l'equivalente nella terapia, nella terapia analitica, ma nella terapia medica, standard dell'inizio di una cura, cioè, l'inizio della cura è sempre doloroso, comporta dei, cioè, abbandonare i propri regimi, i stili di vita, le proprie certezze, che non sono tante, se mi levi pure quelle, mi diceva qualcuno, se mi levi anche quelle, io poi rimango proprio, già sto nel nulla, poi mi levi di sotto anche questo, però questo è necessario. dall'altra parte, esattamente simmetrica, a questa necessità di una pars destruens, chiamiamola così, che sia molto franca, molto diretta, senza giri di parole, perché un altro problema, questo lo dico, se ci sono tra voi insegnanti, è che non si può cincischiare troppo, cioè, ci vuole, secondo me, nella scuola, tutta quanta, il midollo del leone, e che va dato a tutti, poi c'è qualcuno che lo mangerà, qualcun altro lo rifiuterà, ma insomma, comunque deve essere a disposizione, quindi è inutile, ho visto l'altro giorno mio nipote, che è in una situazione familiare molto difficile, stava chiuso nella sua cameretta, e gli dice, che fai? Studio William Blake, allora dico, beh, è bello William Blake, e gli dico l'unico verso che sapevo di William Blake, Tiger, Tiger, burning bright in the forest of the night, e lui fa, che è? e gli dico, beh, non so, non l'avete letto, questo? No, sto imparando la vita di William Blake, come la vita? A parte che solo la vita di William Blake ci vorrebbero tre mesi, e poi scusa, ma perché non le leggete poi i testi? No, leggiamo, però sappiamo tutto della vita di un autore, però che non avremmo mai letto, dico, qui c'è qualcosa, non volevo, diciamo, metterlo in difficoltà, dico, bene, allora vai d'accordo, perché se poi ti metti a estillare appunto il dubbio che il tuo insegnante stia facendo la cosa sbagliata, allora non cincischiare immediatamente il midollo della materia, se c'è, e c'è, perché ogni materia, questo non sto parlando solo di quello che insegno io, cioè lettere, sto dicendo ciascuna di queste discipline, ed è bello, secondo me, che vengono date tutte come a un ragazzino, anche se si sa che negli adulti ci può essere una resistenza a, come dire, riaffrontare tutto da capo, quindi avere l'inglese, la storia, le scienze, l'italiano, perché gli adulti sono selettivi, gli adulti sono, dicono, ma a me di quello non mi importa nulla, io ho 50 anni che posso starmi a far tartassare dalla professoressa di matematica, la risposta sì, sì, fatti tartassare e forse percepirai, se non i contenuti della materia, la sua forma e questo è l'altro ritrovato, l'altra scoperta, l'altro riscatto possibile, che mentre è assolutamente illusorio, ipocrita e inefficace l'idea della scuola di legalità, perché a noi insegnanti lì dentro viene molto, soprattutto da parte delle istituzioni, mi chiesto, ma voi fate educazione alla legalità? La risposta è no, educazione alla legalità io non la faccio, o meglio, la faccio, ma in una maniera obliqua, cioè, non posso venire con il codice penale, perché, tra l'altro loro lo sanno benissimo, c'è nessuno che non sa di avere violato, a parte che lo sa perché sta lì dentro, quello è, lo diamolo per scontato che quelli sono reati e che bisognerebbe non farli, ma diversamente legalità, secondo me, vuol dire mostrare che esistono ordini, forme di pensiero, di espressione, io per esempio faccio tantissima, addirittura in maniera maniacale, analisi del periodo, analisi logica, che uno dice ma come, dei detenuti, analisi, proprio, vagonate di analisi logica, perché ti mostrano che c'è una struttura, c'è una legalità, chiamiamola così, o comunque un sistema complesso, per esempio nella lingua, ma se non è nella lingua sarà nella matematica o nelle scienze o nella geografia, cioè esiste una bellezza e una perfezione, un ordine astratto che educa, secondo me, a una forma superiore di legalità, o meglio, a una forma alternativa e che però conferma l'idea che se ci sono delle leggi al mondo, ci sono quelle dello Stato e vanno rispettate, ma ci sono anche le leggi dei numeri, le leggi delle parole, l'altro giorno, con uno sforzo notevole, ma alla fine, credo, avendo fatto capire che se ci sono delle persone che si sono scervellate per far questo, questo è qualcosa, le leggi del sonetto. Ora, cosa c'è di più inutile, gratuito, astratto, insensato, se vogliamo, da un punto di vista dell'utilità pratica, che ti serve sapere quello, che è servito a quello là 700 anni fa mentre si è fatto tutto quel complicatissimo sistema di numerico, metrico, di rime, che però, vedo quando si fa quel A, B, B, A, c'è una specie, ma allora, allora, non si fa tutto a cazzo di cane, no, vedi, c'è effettivamente un modus, allora, il metodo invece terribilmente sostanziale che permea il mondo del delitto, e cioè che vuoi soldi, vai all'ufficio postale con la pistola, te li danno, senza dover far tutto quel complicatissimo giro del lavoro, della cosa, tu vai e prendi laddove il denaro lo trovi dal tabaccaio, dall'ufficio postale, alla banca, tu vuoi il sesso, vuoi una donna, la violenti, senza tutta quella procedura, il corteggiamento, cioè, c'è questo dell'agire criminale, questo sostanzialismo, anche certe volte, come dire, che diventa difficile da criticare, da smentire, no, perché insomma, questo è un mondo dove è in gioco la potenza, la potenza individuale, io sono più potente di quell'altro, quindi lo prevarico, quindi mi prendo i suoi denari, i suoi averi, sua moglie, la sua figlia, insomma, come un po' ha fatto Gengis Khan per Attila, o un sacco, insomma, anche esempi molto recenti, insomma, quando il mondo perde le forme e diventa sostanziale, tu ammazzi il tuo vicino di casa buttandolo dentro un pozzo, siccome è successo in Europa pochi anni fa e sta succedendo adesso vicino, la prova è che quando si va alle spicce si fa così, allora l'idea, e la scuola è una di quelle esperienze che dovrebbe provarlo, che invece di farlo per le spicce tu lo fai seguendo delle procedure, dei protocolli, sì, come sono i protocolli, il nostro è un istituto tecnico informatico, quindi loro imparano a programmare, per esempio, quella cosa lì che io trovo per me incomprensibile, è pallosissima, però vedo che invece è come una specie di rallentamento della procedura mentale del vado e prendo, vado e ottengo, minaccio e mi danno i quattrini, risolvo le cose con un cazzotto o con un pugnale o con un colpo di pistola, perché in effetti quella tentazione della semplificazione delle cose ha una sua paradossale linearità, è un pensiero primitivo ma è un pensiero efficace, andare, c'era, c'era, mi pare che sia, non vorrei fare una brutta figura in un mondo di antropologi, ma non era Levi-Strauss, insomma, era un altro che raccontava di questa, non era neanche Durkheim, comunque un grande antropologo, nell'isola Trobriand, qualcuno poi mi dirà chi era, perché non mi viene il nome, Maninowski, esatto, grazie, Maninowski che racconta di questa popolazione dove i locali, gli indigeni venivano fatti lavorare e alla fine della giornata gli si dava un compenso, spesso in oggetti, cioè un'accetta o altri utensili e per fare questo chi aveva lavorato doveva consegnare un tagliando al magazzino del campo dove lavoravano e qualcuno di loro ha pensato io vado direttamente col tagliando, cioè senza stare a fare tutto il lavoro, mostrando un pezzo di carta mi daranno un'ascia. questo è nella sostanza il pensiero sostanziale, cioè io vado direttamente alla cosa, la scuola è sicuramente ciò che prova il contrario, appunto che per raggiungere B dovrai passare per molti punti diversi, l'altro giorno perché volevo raggiungere il massimo dell'astrazione possibile, il massimo dell'inutilità dell'insegnamento ci siamo messi a leggere proverbi latini che ho detto che però sotto sotto in alcuni casi vengono molto apprezzati perché poi la morale latina è una morale molto pratica quindi a parte che quasi tutti hanno scoperto da dove veniva il nome dell'arma che hanno spesso usato cioè il parabellum dal noto proverbio si vi space in parabellum però molti sono stati colpiti da per aspera ad astra che pensavo siccome lo scriveva ho detto me lo scriveva sempre il mio professore sotto i compiti mettendomi dei voti mediocre perché voleva appunto che e questa cosa qui del dover passare per arrivare ad astra tocca passare per aspera ho visto della gente meditare su questo insomma ho visto quel momento di oscillazione che è il momento dell'intelligenza delle cose quando quando vedi questo lo vedi precisamente dove avviene in chi avviene e in chi non avviene potrei dire anche diciamo le provenienze geografiche di coloro in cui avviene più spesso o meno spesso ma ci porterebbe a un discorso sì appunto vagamente razzistico però posso dire per esempio per una semplice e non perché io sono di quelli accoglienti a tutti i costi che negli stranieri che formano una buona parte della mia platea in effetti questa disponibilità è maggiore forse perché hanno girato forse perché sanno molte lingue forse per esempio magari parlano male scrivono male l'italiano però hanno strutture sintattico-grammaticali molto più raffinate perché magari sanno per esempio gli slavi in generale loro vedo che proprio guizzano come pesci dentro la parte sintattica delle lingue questo lampo dell'intelligenza è percepibile si avverte si avverte questa specie di scuotimento talvolta è anche ripeto uno scuotimento fisico cioè che vedi che ci sono delle persone che cominciano adesso non voglio esagerare ma insomma a tremare cioè c'è un tremolio un tremolio del pensiero accompagnato talvolta anche da un'irriquitezza fisica cosa che poi mi fa pensare tornando alla scuola normale di quanto invece l'irriquitezza fisica venga sempre stigmatizzata nella scuola venga sempre come dire considerata una forma di che va repressa e combattuta e che fa sì che molti studenti vivano in modo molto gramo la scuola italiana dove si sta per 29 ore su 30 inchiodati dentro un banco allora queste cose sono insegnamenti fatti e insegnamenti ricevuti ricevuti intendo dire da chi opera lì dentro la risposta quindi a quella domanda posta dal tema di questo incontro insomma è poi è un riscatto serve a questo garantisce non serve garantisce questo la risposta è no non lo garantisce non c'è garanzia e soprattutto non c'è questo vorrei che venisse deposto una volta per tutte garanzia di superiorità morale in chi ha o maneggia o ha avuto un'educazione rispetto a chi non l'ha non l'ha avuta quindi la parola cultura rischia fortemente di essere una discriminante ben più odiosa di quella razziale ancora più odiosa perché veramente anche poi se vogliamo dire usando un termine che adesso si usa sempre di meno insomma anche con un connotato di classe che è insopportabile insomma è vero che il problema è questa mezza ignoranza perché ripeto la santa e piena ignoranza è molto difficile ormai da trovare quella del contadino anche se visitando con mia figlia oggi la mostra di Berengo Gardin le dicevo in maniera un po' schematica vedi guarda questi volti italiani degli anni 50 60 70 non ci sono più si sono estinti proprio antropologicamente non li troveresti più e non ti ho ricordato ma è un aneddoto che mi colpisce molto una cosa del genere fu verificata da Stanley Kubrick quando per girare l'ultima scena di Shining in cui si vede Jack Nicholson che stava lì già nel 1929 ha provato a fare questa fotografia di questo capodanno usando degli attori di oggi delle comparse e poi ha dovuto rinunciare perché si vedeva molto chiaramente che i volti degli uomini e delle donne degli anni 80 quando ha girato il film non erano credibili oppure sembrava che stessero recitando e ha dovuto prendere una foto d'epoca e incollarci dentro la faccetta di Jack Nicholson che sta al centro perché quelle facce non esistono più poi siamo usciti dalla mostra di Berengo Gardin e abbiamo incontrato una foto di Berengo Gardin vivente quattro vecchi signori che erano esattamente uguali a quelli delle foto degli anni 40 e 50 allora io ho fatto la mia retretta ho detto tutto quello che ti ho detto Margherita non è vero grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti